Per dentro la Franciacorta ci troviamo oggi a Rodengo Saiano in compagnia di Mara Pollonini. Mara, di ritorno da Roma, com'è stata questa esperienza? Allora, di ritorno da Roma direi che l'esperienza è stata bellissima perché a parte le grandi persone, personalità, non so come spiegarmi bene, dal mondo della moda, ai politici, a chi più ne ha più ne metta, diciamo, è stata un'esperienza veramente bella, 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 bella. Facciamo quindi un passo indietro, cosa ti ha portato a Roma? A Roma mi ha portato il fatto che, siccome io faccio parte da molti anni di questa Accademia Nazionale dei Sartori, di cui mi sembra nell'anno 2014, sono sicura, non me lo ricordo, un premio importante. Ho vinto, ho fatto la selezione della regione Lombardia, di cui ho vinto il concorso e da lì sono partita per questa bellissima esperienza. Siamo andati, sono andata a Roma e ogni anno l'Accademia fa queste belle manifestazioni. Mi sono trovata anche nel 2019 con il mondiale di cui avevamo i grandi sarti mondiali. È stata un'esperienza, solo belle esperienze comunque. Eventi questi romani che si concludono con la manifestazione forbici d'oro. Tu sei già salita sul podio, quest'anno non hai partecipato? No, quest'anno io non ho partecipato perché ogni anno, cioè ogni due anni, non ogni anno, perché un anno si fa la manifestazione delle forbici d'oro e un anno la manifestazione del manichino d'oro. Io non ho partecipato perché avendo già partecipato gli anni passati, ormai salgono diciamo altre persone sul podio. Soprattutto anche stiamo cercando di coinvolgere ragazzi giovani che abbiano voglia di lavorare e soprattutto di fare questi capi a mano, finiti in gran parte a mano. Proprio qui volevamo arrivare. Il tuo lavoro fatto tutto a mano? Eh sì, il mio lavoro è praticamente fatto la maggior parte a mano perché ovviamente diciamo che si parte dal disegno che è fatto a mano, si crea il cartamodello e dal cartamodello poi si confeziona il capo praticamente, si fanno le classiche marche diciamo che mi aveva insegnato mia nonna, la prima prova, la seconda prova e alla fine poi tutte le punture, tutte queste cose sono fatte a mano. Tante rifinizioni sono fatte a mano e lì fa di un capo, un capo sartoriale, non industriale e questo prende valore secondo me nell'artigianato, nell'artigianato sartoriale. Una cosa importante che hai sottolineato, stiamo cercando di coinvolgere i giovani. Ad oggi purtroppo manca il ricambio generazionale? Purtroppo sì, manca perché non lo so perché, non lo so. Io quando sono sincera avevo 15 anni, mi piaceva giocare con le bambole, fare i vestitini, da lì è nata la mia passione. Ma i giovani d'oggi, tanti, so che vanno a scuola, imparano a disegnare, imparano tante cose perché io nel corso del tempo per esempio ho avuto anche delle stagiste ma quando vedo i miei lavori rimangono a bocca aperta perché loro imparano, ma imparano industriale e qui ci vuole tempo, ci vuole tempo e probabilmente, non so, non mi rendo conto della manualità che vorrebbero vedere. Il capo finito, in dieci minuti finito, ma non è vero perché un bel capo ci vogliono ore e ore e ore e ore e questo fa la professionalità. Un capo pronto, quindi siamo per tutto e subito. Possiamo dire che questa è la mentalità della tecnologia moderna e soprattutto dei social? Forse sì, ma il mio pensiero forse sì, perché vogliono tutto pronto subito. Quindi di ragazzi che amano questo lavoro, io parlo ragazzi e ragazze, ce ne sono veramente pochi, pochi, pochi. C'è bisogno di questa manualità, c'è bisogno di far crescere questo lavoro che secondo me, questo lavoro parla di cultura, di arte e tante cose belle. Perché penso che se torniamo agli anni, tipo a me piace tantissimo, gli anni del 1800, questi erano finiti a mano, erano veramente fatti a mano. Sono belli, adesso così. Arte, passione e soprattutto emozioni. Questo è quello che ti porta al tuo lavoro, quello che ti porta a Roma, ma soprattutto parlando di emozioni, la più grande l'hai trovata tornando a casa. È vero, mi viene del piangere. La più grande emozione l'ho trovata tornando a casa perché la mia nipotina, che ha sei anni, mi ha fatto trovare un bellissimo disegno fatto da una bambina di sei anni, però mi sono emozionata. Come mi sto emozionando adesso, scusatemi. Tornando invece a parlare di arte sartoriale, abbiamo davanti la guida e il maestro sarto. Ci sei anche tu fra tutti i sarti nazionali e stare in una pagina con una quarantina di nomi vuol dire avere qualità nel proprio lavoro. Oddio, cosa dire in questo? Sì, siamo i più grandi sarti di reputazione mondiale e ci sono anch'io. Non siamo in tanti perché siamo in pochissimi, però ci ritengono i sarti di reputazione mondiale. Un grande onore. Adesso guardiamo al futuro. Quali sono i tuoi sogni, quali i tuoi obiettivi? I miei obiettivi? Portare avanti, ovviamente, se ci riesco, ma devo fare di tutto per riuscirci, di trovare alcuni ragazzi, ragazze che abbiano voglia di imparare un mestiere, imparare una cultura, imparare un'arte alla fine. Il resto abbiamo in programma come Accademia nel 2023, sempre se il Covid ce lo permette, perché abbiamo in programma il Giappone, quindi sicuramente io andrò in Giappone. Questo è il mio obiettivo anche. Tra le operazioni che stai portando avanti per diffondere quest'arte, hai fondato anche un'associazione di cui sei presidente. Cosa ci racconti? Allora sì, è vero, sono presidente di questa associazione. L'associazione si chiama MAI, è un movimento artisti italiani e l'abbiamo fondata sinceramente l'anno scorso con il Covid. Però abbiamo detto, ma sì, andiamo, andiamo perché se siamo fermi non va bene. Niente, è un'associazione che praticamente fanno parte diversi artisti, per il momento italiani, ma vorremmo espandere questa cosa anche all'estero. Abbiamo già fatto delle mostre di cui alcuni miei quadri, perché io oltre che a fare abiti faccio quadri cuciti con la macchina da cucire, ha avuto un buon successo. L'anno prossimo c'è già in programma una manifestazione, mostra a Villa Glisenti nel mese di luglio. Io spero che questa cosa anche nei miei obiettivi possa andare avanti. Tra gli obiettivi dell'associazione incrementare anche il numero dei soci guardando all'estero. Il Giappone 2023 di cui ci hai parlato prima può essere una strada? Oddio, non saprei. Potrebbe essere una strada? Dipende tutto, secondo me, dagli artisti che faranno parte di questa associazione. Potrebbe essere una buona idea. Ve lo racconterò strada facendo. Oltre a tutto quello che abbiamo raccontato tra Roma, la tua arte e le tue passioni, cosa possiamo dire ancora su di te? Aiuto. Cosa possiamo dire? Non lo so. Mi sa che devono dire gli altri qualcosa su di me. Non io. Mi piace questo lavoro. Cosa vi devo dire? Sono appassionata e lo amo. Questo è quello che posso dire su di me. Grazie a tutti.